Salve a tutti e benvenuti a questa recensione, ma non sono da solo. Questa volta, infatti, finalmente arriva il video della collaborazione. Io sono il sindaco Stockholm. Io mi chiamo Daniele Grillo e oggi, per la prima volta nella mia vita, recensirò un remake. Cascasse il mondo adesso, ho detto remake. Per quanto riguarda il film di oggi di cui vi parlerà il mio collega, è appunto La maschera di cera del 1953, remake del film originale del 1932. Remake, ripeto, ho detto remake, mi vergogno di me stesso. Ma va bene, quindi vi lascio al mio collega. La trama narra del nostro brillante scultore di statue di cera, interpretato da Vincent Price, che ha un museo nel quale tiene esposte le sue più grandi creazioni, museo e laboratorio artistico. Tutte le statue che lui crea sono personaggi famosi e scene realmente accadute nella storia. Possiamo dire che Price ha un rapporto quasi morboso rispetto alle sue creazioni. Tanto che, in alcuni casi, con le più belle, lui parla, dialoga, sente parlare, sente i loro pensieri. E questo è perché? Perché un artista, quando crea qualcosa di grandioso, spesso e volentieri è convinto che ci sia un'anima all'interno della propria scultura. Queste sculture sono create prendendo spunto da persone che vivono nel tempo di Price, che fanno da modelli e gli permettono di rendere le statue il più realistiche possibile in base ai modelli che Price sceglie per la riproduzione della statua. Conosciamo ora l'uomo che ha finanziato l'impresa di Price, ovvero l'apertura del museo. Uomo che sentiamo che si lamenta con il nostro artista perché nella stessa città, nello stesso quartiere, c'è un altro museo del lecere che rappresenta fatti di cronaca attuali e non legati al mondo dell'horror, dell'omicidio e del terrore e che fa molti più soldi e allora gli va a dire Price hai un imbecille, per quale motivo non facciamo la stessa cosa anche noi? Price semplicemente non è interessato a una raffigurazione di questo tipo, ma proprio quella sera stessa il nostro artista sta aspettando un finanziatore, diciamo così, che avrebbe potuto acquistare la sua attività dando molti più soldi rispetto a quelli che avrebbero fatto aprendo un museo dell'orrore. Indi per cui Price rassicura il suo finanziatore che se avesse terminato un contratto, che se avesse convinto l'uomo ad acquistare la sua attività, avrebbe potuto ridargli i soldi indietro e avrebbero semplicemente finito il loro rapporto lavorativo. Tutto normale, arriva l'uomo, succede che si incontrano, abbiamo una bellissima rappresentazione di cui parla Grillo perché ne sa più di me, nel quale andiamo affettivamente a capire come funziona, come mai, perché Price ha un certo rapporto morboso e spiega dei dettagli, spiega delle cose, impronte facciali, tecniche di modellismo, un sacco di cose molto interessanti. L'uomo è interessato all'acquisto dell'attività di Price, ma deve partire per un viaggio e andare in Egitto e tornerebbe dopo tre mesi. L'uomo che inizialmente aveva finanziato l'attività di Price, dice che tre mesi sono troppi e gli viene l'idea che, dato che la composizione di cera all'epoca era molto infiammabile, avrebbe pensato che, dando fuoco all'attività, l'assicurazione avrebbe pagato tre volte il triplo quello che l'uomo che stava andando in Egitto potesse offrire. Da lì scatte una lite violenta, molto scenografica, nel quale il tipo cerca di dar fuoco al museo e Price cerca di lottare perché non vuole vedere bruciare le sue creature. Puttana, Ivalish trippa male. Naturalmente l'uomo riesce a dare fuoco e fiamme a tutto quanto e si crede che il nostro artista muoia nell'incendio. Poi, in realtà, come è giusto che sia, il nostro artista non muore apre poi, detto alla molto veloce per non spoilerare più di tanto un nuovo museo legato all'horror e stranamente cominciano a capitare in quella stessa città omicidi molto particolari che vengono raffigurati perfettamente da Price cosa che attira poi l'attenzione di una ragazza, un ragazzo, un po' di gente che passavano di lì per caso e non si sono fatti i fatti loro e la polizia facendo diventare un film di pura fantasia un thriller poliziesco del 1953. Parliamo ora di alcuni punti che sono alquanto originali di questo film rispetto all'originale. Quali sono, in sostanza, le piccole modifiche che rendono questo film, diciamo, diverso dal film del 1932? In primis vi è la scena del Museo del Licere dove praticamente la telecamera entra dentro il museo appunto allestito da Vincent Price con le sue statue di cera. La cosa bella di questa scena è il primo piano realizzato dal regista perché appunto la telecamera passa in rassegna una per una tutte le statue e tutte le statue di questo museo concentrandosi soprattutto sull'espressività, sui volti di queste statue. E questa è una scena veramente molto bella perché sembra di vedere quelle statue vive c'è una sorta di vivificazione di queste statue di cera quando la telecamera passa su questi volti sembra allo spettatore di percepirne l'anima e questo è, secondo me, veramente una delle scene notevoli del film che dà tutto il meglio di sé nei primi minuti. Il mezzo del film è il quasi nulla assoluto il finale invece, insomma, è abbastanza carino ma sono proprio i primi minuti in cui il regista con questo primo piano dei volti veramente dà il meglio di sé perché tramite proprio la telecamera sembra quasi di entrare dentro queste statue e sentirne pulsare il cuore. Però altra cosa bella proprio dei primi minuti non è solamente questo primo piano all'interno proprio delle statue in cui noi osserviamo proprio le caratteristiche di queste statue l'altra particolarità è la scena dell'incendio e la bellezza qui sta in come la telecamera ci fa vedere sempre la stessa ripresa cioè la carrellata la carrellata delle statue di Cera però questa volta con il volto che si scioglie e questo è davvero un dettaglio macabarissimo che incute terrore, paura perché se prima la telecamera rendeva vive le statue ora le rende morte ed è anche una scena abbastanza triste abbastanza malinconica cioè quel macabro però un macabro malinconico perché appunto queste statue sembrano che stiano piangendo nel momento sul punto di morte queste statue piangono ed è veramente una scena che rimane impressa nella mente. Partiamo dal presupposto che questo film è stato una trovata più che altro commerciale sebbene abbia inserito dal mondo del teatro a quello del cinema Vincent Price che ha fatto il debutto il suo debutto con questo film il film non è altro che una porcata trash commerciale considerabile trash attuale ma secondo me trash anche all'epoca perché il film è stato fatto preso pari pari sputato dal film del 33 stessi dialoghi stesse battute stesse riprese eccetera eccetera ma con due scene in più diverse, inutili il tutto semplicemente per pubblicizzare il fatto che il film stesse uscendo nelle sale cinematografiche con il primo 3D non sto scherzando il film è diventato famoso praticamente solo per quello e per Price è meraviglioso infatti abbiamo due scene di una ridicolagine fenomenale scene una o due scene di un gioco o di un film nel quale qualcosa viene spiacegato sullo schermo abbiamo la scena della presentazione dell'apertura del nuovo museo di Price che per attirare clientela chiamano un giocoliere che dimostrazione di abilità incredibile prende le palline le racchette quelle con l'elastico e la pallina e fa così e c'è la pallina che va verso la macchina da presa e quindi quella è una delle scene del 3D che cazzo è dai un'altra scena che secondo me è piaciuta molto ai maschietti e non ai femminucce che hanno visto quel film è la scena del Can Can dove in primo piano una bella signorina si mette a 90 e il culo viene spiattellato in faccia in maniera 3D idiosa sulla faccia di chi andava al cinema io che pensavo che fosse un film serio invece il punto centrale in cui ruota questo film ed è sicuramente la differenza sostanziale rispetto all'originale del 1932 è la figura di Vincent Price il protagonista esclusivo del film Vincent Price è un artista che ha dedicato poi tutta la sua carriera cinematografica alla cinematografia d'horror risulta molto bello il cameo che fece la partecipazione verpropria che fece la protagonista nel film dedicato a un racconto di Edgar Allan Poe la maschera della morte rossa e qual è la particolarità di Vincent Price è di essere un attore uscito dal teatro e se alcuni di voi hanno visto un mio video presente nel mio canale che è la recensione di Operazione Paura di Bava sanno quanto io adori un regista o un attore che provengono dal teatro e cercano di fare teatro all'interno di un film e Vincent Price fa questo Vincent Price è un attore teatrale trasportato nel mondo del cinema e a mio parere tutto tutte le sue scene tutte le scene che riguardano soprattutto i suoi dialoghi sono costruiti secondo una sceneggiatura profondamente teatrale e questa è una cosa che mi ha colpito molto perché effettivamente sentire Vincent Price che parla non è sentire un personaggio reale perché sono dialoghi completamente fuori dal realismo ma sono appunto dialoghi che si capiscono solamente se collocati all'interno di una finzione teatrale sono dialoghi proprio da eroe della tragedia sono insomma dialoghi profondamente empatici profondamente anche artificiosi nella loro costruzione e sicuramente questo rende il film effettivamente un'opera teatrale sembra di stare a teatro e godersi questi monologhi che poi in realtà sono dei soli loqui di Vincent Price che è come se dialogasse con la sua anima che sprigiona queste frasi veramente da grande eroe tragico e a mio parere tutto il film ruota intorno a Vincent Price anche se il mio collega non è propriamente d'accordo ma sembra che questo film a me sembra che questo film sia stato fatto per Vincent Price perché effettivamente nel 32 nel film del 32 non c'era un personaggio così carismatico ma soprattutto l'azione ruotava in tre protagonisti il insomma il gesto il scusatemi il colui che faceva le maschere di cera il la ragazza che scopre poi il tutto e il suo ragazzo che alla fine salva tutto e alla fine c'è il bacio fra i due nel film del 53 invece praticamente le due figure dell'uomo e della donna della donna che scopre tutto e dell'uomo che la salva ci sono ma sono spente sono morte come le statue di cera nella scena dell'incendio perché è l'unico personaggio vivo e che veramente sprigiona vitalità e sprigiona questa eroicità è Vincent Price ecco perché dico che secondo me questo film è stato fatto assolutamente per Vincent Price perché cioè è inevitabile insomma dirlo effettivamente è lui non solo il protagonista del film ma è l'anima del film è il film stesso o meglio è il l'opera teatrale stessa in questo caso e quello che appunto risulta efficace è proprio lui lui come eroe tragico che non sta solamente recitando in un film o opera teatrale che sia come la vogliamo appunto chiamare ma è proprio lui la vita stessa di questo film cioè è lui proprio l'anima stessa del film intero e quello che ho notato è appunto questa sceneggiatura che si concentra soprattutto su Vincent Price sulla sua espressività e sul suo modo di interagire con gli altri personaggi in poche parole secondo me questo è un film che ha tanti piccoli cameo dei personaggi secondari e poi tutto il centro della circonferenza è Vincent Price che probabilmente ci regala una delle sue interpretazioni migliori perché veramente a mio parere questo film merita per la scena iniziale e per la presenza di Vincent Price con i suoi monologhi non sono d'accordo ma per quanto Vincent Price sia Vincent Price e non si può toccare perché è un attore di qualità attoriali giganormiche e nonostante che il film del 32 abbia comunque i protagonisti la ragazza e il fidanzato la ragazza che scopre tutto il ragazzo che poi la va a salvare abbia una capacità attoriali minime non credo che il film del 53 sia concentrato solo ed esclusivamente su Vincent Price perché il film non sottolinea Price è Price che si autosottolinea imponendo la sua presenza attoriale mostruosa rispetto a quelli che in realtà sono gli altri attori che nel film fanno poco e niente fanno presenza esattamente come la pensa il mio collega ma abbiamo solo questo punto di discordo nelle nostre discussioni riguardo al film e quindi se devo dare un giudizio complessivo io vi dico guardatevi guardatevi tutti e due innanzitutto perché secondo me è più corretto guardarvi l'originale dato che l'idea è del 1932 ma non perdetevi neanche quello del 53 a parte che Morita dell'Erisata è una parte centrale per questa cosa del 3D che è veramente meravigliosa nel senso di kitsch trash eccetera ma soprattutto per la scena iniziale e per i monologhi solo i loqui eroici di Vincent Price veramente quello del 53 merita la visione ripeto non per il film in sé che è molto meglio andarsi a vedere quello del 32 ma proprio per il personaggio di Vincent Price che è l'anima l'essenza di questo film e le sue creature le sue statue di cera non sono altro proprio che una parte dell'anima di Vincent Price che vengono fuori quindi a mio parere tutto questo film è Vincent Price tutto anche le statue sono parte dell'anima di Vincent Price è per questo che vi consiglio questo film concludo il tutto volendo ringraziare il mio collega Stokon Boris Love e consigliando ovviamente di vedere i video del suo canale ma soprattutto per questa collaborazione perché non soltanto è stata la mia prima collaborazione ma mi sono anche molto divertito a vedere con lui il film e penso che queste collaborazioni non siano solamente un modo per conoscere nuovi film ma anche per trovare nuove amicizie e soprattutto divertirsi davanti davanti a un film quindi devo dire che questa esperienza proprio umana mi ha fatto molto piacere quindi spero che ci saranno anche altre collaborazioni io vi saluto qui e buon Vincent Price a tutti grazie grazie